Assessore, buone notizie nella vertenza che riguarda la celta di Tortoreto, non ci sarà nessun lavoratore che perderà il lavoro, ci saranno delle ricollocazioni, nuove assunzioni e anche prospettive molto interessanti per il futuro, è così? Sì, esattamente, buone notizie da Tortoreto, da parte della celta perché è stata acquistata da una nuova società, la Digital Platform, che logicamente ricolloca le 65 persone che stavano in cassa integrazione, quindi nessuno sarà licenziato e per di più, in base al nuovo piano industriale, saranno assunte altre 30 persone. Inoltre è intenzione della nuova ditta fare un centro di ricerca, quindi il sito di Tortoreto diventerà un'eccellenza. Sì, noi già a marzo, insieme al presidente dell'Aggiunta regionale, Marco Marsiglio, abbiamo incontrato questa società che aveva intenzione di acquistare la celta, logicamente trattandosi di comunicazione era necessaria l'approvazione da parte del Ministero e del Governo, appena c'è stato questo ok, si è concretizzato il tutto e quindi questa vertenza, per fortuna, ha avuto un esito positivo e quindi siamo felici. Ringrazio tutte le parti sociali, i lavoratori, ma anche i commissari che logicamente hanno supportato il buon esito di questa vertenza.